Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me. Ok? Ok. Se hai un sogno, tu lo devi proteggere. Quando le persone non sanno fare qualcosa, lo dicono a te che non la sai fare. Se vuoi qualcosa, vai insieme. Conto la distanza che mi stacca da terra, sbarro i giorni sull'agenda, è cominciata questa guerra. La partita è aperta, ma è una sfida persa, te la cavi e va bene, ma ti vogliono sottoterra. Corro sull'asfalto, sento la terra che trema, in due minuti e mezzo ho già fatto un teorema. Il tempo corre, io vorrei che frena, scrivo questa merda e già si è fatto sera. Spero sempre meglio, ma poi finisce male, per fortuna tra le mani tengo roba che vale. L'ansia sale, ogni singolo giorno pesa, ho problemi alle spalle da rompermi la schiena. Mi serve del supporto, per quello che sopporto colpa di questa città, che mi rende morto. Questa vita incontro senso, no che non ha senso, volo a bassa vuota, ma ancora non ho perso. Questo bambino diventerà certamente qualcuno, tu crescevi bello, sano, forte, vederti crescere ogni giorno era una cosa meravigliosa. E quando è arrivato il momento per te di diventare un uomo, per fruttare il mondo, vai va, ma qualcosa lungo il tragitto ti ha fatto cambiare. Non sei esistito più, hai permesso al primo fesso che arrivava di farti dire che non eri bravo. Ancora non ho perso, volando a bassa quota è il mio obiettivo, è riempire quella tua testa vuota. Quello che faccio è come tuffarsi nel vuoto, nuoto in un mare di merda. E non so dove approdo, no che non approvo, non ricerco l'oro. E farlo per passione, che mi rende uomo. Magari dimostro meno di 18 anni, ma sono molto più grande di questi finti grandi. Trapani City, immersa nel catrame, questa informazione è un'affermazione capillare. Ma io mi faccio forza e non mi prendo male, roba potente da spezzare, colonna vertebrale. Cammino a testa alta anche se mi trovi in basso, voglio andare avanti senza mai fare il gradasso. Voglio scrivere testi con nuovi avvenimenti, porto sempre la stessa merda e non vedo cambiamenti. Ora ti dirò una cosa ascoltata, guarda che il mondo non è tutto rosa e fiori, è davvero un postaccio misero e sporco. E per quanto forte tu possa essere, se glielo permetti, ti mette in ginocchio e ti lascia senza niente per sempre. Né io, né tu, nessuno può colpire duro come fa la vita. Perciò andando avanti, non è importante come colpisci, l'importante è come sai resistere ai colpi, come incassi. E se finisci al tappeto hai la forza di rialzarti, così sei un vincente. E se credi di essere forte, lo devi dimostrare che sei forte, perché un uomo vince solo se sa resistere. Non se ne va in giro a puntare il dito contro chi non c'entra, accusando prima questo o poi quell'altro di quanto sbaglia. I migliacchi fanno così e tu non lo sei! Non lo sei affatto!